Per la disgrazia che è successa appunto tanti anni fa Di Michele per Gattuso Monaco di testa D'altro campo di Michele Prova ad andare via in velocità David di... A ritornare in possesso di palla Quindi Davids Henry Bernardini Riesce a... Sì, bisogna tentare questi pressing rapidi, improvvisi Perché chiaramente i giocatori della Juventus possono sbagliare Il giocatore già di per sé anche lui con un carattere molto irruento Per Gattuso è troppo importante Affrontato Davids Vince il duello con Gattuso Ancora Davids Sulla linea laterale Davids Poi Fresi Il giocatore che oltre... Scusami Deschamps Per Davids Juventus padrona del campo Montero anticipa Divaio Controlla con il petto Prova ad andare via Giacomo tedesco Messo giù tutto regolare Alla quarto d'ora Della prima frazione Su perfetto assist di Fresi Gioco Sbaglia l'intenzione Martellante Giocatori che potrebbero alla distanza pagare Giù sta la segnalazione della terra arbitrale Davids Zidane Perfetta Chiaramente sta giocandosi Davids libero Diceva nel cerchio di centrocampo di Michele Lo affronta Tiene Davids Per sotto Ancora Davids In profondità Davids Per Montero Ancora Davids Controlla Gianpaolo Messo giù ancora Gattuso Affrontato da Davids Va via Gattuso E il fallo Ancora Gianpaolo Messo giù da Davids Che continua Ancora Davids Di Montero Si lotta Strenuamente Monaco Gattuso Montero Davids Mirkovic Per Divaio Divaio Paolo Ancora Davids Per Deschamps Davids Si sovrappone per sotto Davids Zida Davids Pesca Henry Non lo supera in dribbling Davids Poi Deschamps Davids Gianpaolo intercetta L'appoggio Mentre Di Michele Cercava il taglio Deschamps Quindi Davids Henry Fresi Ancora Davids Frega Poi Davids Parte Davids Il tiro ribattuto Da Delgrosso Davids Si al centro Davids Si libera per sotto Sulla otto di sinistra Davids Prova a servirlo Bolic Più fresco A disposizione 40 minuti Da giocare ad altissimo In precedenza Occupata da Di Michele Con maggiore propensione Maestoso Salvatore Fresi Che poi prova a servire Gianpaolo Attacca ora organico pieno La Juve Davids Bernardini Ah peccato Non filtra Giuliano per Davids Bolic Davids Davids Alle prese con Gattuso Ancora Gattuso Non lo molla Pallone in fallo laterale Zidane Cattivissimo da dietro Calcio di pulito Davids Zidane Stabolic Spazza la propria aria Quindi Davids Juetus Tutta nella metà campo Della Salernitana Davids Spazio Gattuso Chiude Commette fallo Ivan Sono scintille Tra i due tracagnotti Di centrocampo Davids e Gattuso Davids Centralmente C'è Fresi Che lo affronta Affrontato da Vannucchi Quindi Davids Deschamps Davids Inzaghi letteralmente annullato Da Salvatore Monaco Davvero una gran prestazione Monaco e Fresi Sono stato con le mani Per Davids Affrontato da Giampaolo Poi Gattuso E Lo troviamo in ogni angolo del campo Incredibile Gattuso Zidane Vannucchi Alle prese con Davids Strenuamente Tra tre avversari Fonseca Davids Ametrano Pallone Follaterale Fonseca Per Davids Deschitus Zero Davids Per Amoruso C'è Bolic Su di lui Giacomo Tedesco Davids Si accetta Davids Gattuso Ormai Davids Zidane Si porti davanti Il Tifo Granata Si stringe Il pallone Balli Esce Davids Bernardini Balli Di testa Davids Di testa Grazie a tutti.